Ma è la prima volta che fai la cameriera? No, l'ho fatto... Per quante volte? 4-5 volte, ma come saggista? Ragazzi, sono spawnata davanti al killer! Sono spawnata! Ne posso fare uno da sola intanto? Sì, sì, fai pure. Vediamo, provo a scappare con... Ancora ti petta, no? Una torcia trovata. Viola! La torcia è qua, è qua, perché l'ho lasciata per sbaglio. Ci sta succedendo un casino. No, è qua, ok, l'ho ripresa, l'ho ripresa. Io ho trovato una torcia viola. Perché Dwight molla il gen? Boh, io sono libero. In questo punto provo anche io a fare qualche save se cambia con la torcia viola. Cioè, è la seconda volta, comunque. Tieni... No, aspetta, sei tu? Aspetta, tieni. Si chiama Anna. È la seconda, comunque. È la seconda volta che capita questa cosa qui, che stanno davanti al killer. Dopo faccio la clip. Prendimi. Cazzo... Buona che non mi prende, stanno... No, allontaniamoci, sennò veramente non la prende. Dovevo provare un save di torcia. Bene, bene, bene. Mollo? No. No, pensavo di sbagliare. Mi segue ancora? Ma è chiusa la finestra della... Terra, maledetta! Terra, maledetta! Sparisci! Che falle! No, vabbè, ragazzi. Salve. Io sto inquinando le tracce di Alice. Alice, scompari. No, mi sa che ti ha vista. Vabbè, va, va. Boh, vaffanculo. No, non ce l'ha fatta. Falle, falle! Grande! Ma va, tanto presto o tardi mi prende. Adesso non ho dei vantaggi già. Mentre quel qua non si può. Vai sul palle, vai sul palle. Eh, ma allora. Non tirarlo, eh. Intanto sto recuperando. Forse... Io, raga, sono già in partita e riesco a farle, ne? Sì, sì, vai, vai. Grande, grande, grande. Due pallet save in una sola partita. Eh, ma... Eh, vabbè, no. Io adesso mi devo curare, per cui... Vabbè, ma avete... Avete solamente sentito la cosa... Mi hanno messo due festoni. Sì. Una torta, che però è buggata. Mo' capita un killer stronzo. Devo difarmare, che devo scappare questa qua. Cosa sta succedendo? Un'altra falle ti infaccia. Cerca ancora lì, c'è? Sì, sì, mi sta qua. Io intanto recupero. Ho recuperato tutto, posso rialzarmi, però... Ah, no. Ah, no, vabbè. Gra... Madonna, ragazzi, questo è da filmare. Potete filmarla voi, perché... Io ho filmato... Credo stia quitando, no. Anch'io lo pensavo, anch'io lo pensavo. Alice, scompari. Vai proprio in un angolo della mappa e nasconditi, Alice. Ok. Sì, sì. Ma, ragazzi, c'è qualche perte, qualche dolce... Credo si sia arreso, eh. Credo che questo sia Alice non deve morire parte 2. Alice non deve morire parte 2. Mattia, tu puoi salvare la clip, per favore. Sì, l'avevo salvata 10 secondi. Grazie.